Come dicevo alla vostra schiacciatrice opposta, bravissima, complimenti perché nell'arco dei quattro passati credo che Umberti te abbia giocato con più attenzione, con meno pressione, dal di là del primo sette credo che ha meritato la prima vittima. Il primo sette sì, loro erano partiti molto bene, noi probabilmente un po' così, intimoriti, non si è riusciti assolutamente a giocare, hanno veramente messo alle cose. Poi siamo riusciti a giustare un po' il muro che nel primo sette assolutamente non aveva funzionato e da lì abbiamo preso coraggio, la battuta ha ottenuto un po' più e si sono un po' invertite le parti, loro forse come trasformati ma non erano probabilmente perché hanno forse un po' mollato. Sono comunque credo una bella squadra, se dovessero ridurre anche queste veri motivazioni, magari per attenzione, come dire, il primo sette non ci hanno assolutamente fatto giocare, quindi non assolutamente metto. Poi siamo stati bravi a aver pazienza, non farci prendere dalla disperazione perché la ripartenza del secondo era così e poi invece alla fine si è riusciti a stare attenti, a fare meno sciocchezze e andando da volta.